Stavano concludendo una delle oramai quotidiane passeggiate per la sicurezza cui Forza Nuova ha dato vita nelle zone ritenute più a rischio di città grandi e piccole. A Venezia si controllano Piazzale Roma, la zona della stazione ferroviaria e alcune corse degli autobus di linea. Martedì sera quattro militanti, uno di questi over 60, scesi dal bus in Piazzale Cialdini, sono stati accerchiati da una ventina di antagonisti armati di spranghi e catene e aggrediti fino a quando qualcosa o qualcuno ha suggerito di abbandonare il campo di battaglia. Uno dei quattro militanti ha rimediato una costola rotta ed è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dove sono arrivati i carabinieri della compagnia di Mestre che stanno svolgendo accertamenti sull'episodio. Un'aggressione infame, scrive Forza Nuova, nella nota firmata congiuntamente dal segretario nazionale Roberto Fiore e dalla segreteria di Venezia. La nostra risposta sarà militante politica dura e immediata, fanno sapere i forza novisti che hanno già annunciato una mobilitazione con corteo e fiaccolata prevista alle 20 e 30 del prossimo 30 gennaio a Mestre. Chiudiamo il centro sociale di Mestre, chi protegge la mafia nigeriana lucra sul business dell'immigrazione, spaccia droghe, attacca i patrioti, si legge ancora nella nota inviata alla stampa. Sui fatti di martedì interviene anche il coordinatore di Forza Nuova del Nord Italia, Luca Castellini. Non riconosceremo nessuno, precisa la denuncia sarà presentata contro i gnoti e intanto dall'amministrazione comunale la presa di posizione dell'assessore alla sicurezza. Giorgio D'Este. È un episodio di carattere negativo, fatti che non dovrebbero verificarsi, ma che ahimè un po' ovunque nel nostro paese ogni tanto fanno capolino. Sicuramente la manifestazione, io mi auguro che abbia carattere pacifista, che sta esattamente in linea con quello che è la volontà di questa amministrazione, ne vuole esprimere comunque ideologie e pensieri diversi.